Messi ancora, in mezzo a due, scarica bene per Xavi, si muove Pedrito per ricevere, si ferma poi dopo il contromovimento Pedrito, adesso va ancora in profondità e il ritardo al veloa, nettissimo, Pedrito punto all'area di rigore, Pedrito! 2-0 per il Barcellona, Pedro Rodríguez, Ledesma, primo gol a Real Madrid, 0-2. Straordinario questo Barcellona, io non ho parola amici, perché hanno tenuto, ha fatto 15 passaggi, dai 10 ai 15 passaggi, esasperato il Real Madrid, esasperato, sono demoralizzati perché devono correre dietro e poi aspettato il momento giusto, vai scattare Pedrito e fare un gol bellissimo. Adesso è il momento di Guti, adesso entra in campo il vicecapitano, nemmeno c'è il boato perché il pubblico è al tappeto così come il Real Madrid, fuori Marcelo che mi era sembrato uno dei migliori, ti dico la verità, qui buco, clamoroso di Arbeloa, Pedro gli prende il tempo e poi pennella, morbido morbido sul secondo palo, guardalo da qui, la mette dove Casillas proprio non può arrivare all'angolino e Pedrito si iscrive anche lui al referto delle bestie nere del Real, 2-0 per il Barcellona. Questo è quello che deve fare lui, non qualcosa che ha fatto al primo tempo, però lui è un pericolo per la difesa costante. Indovina un po' chi gli ha passato il pallone.